dai 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 grandissimi c'è stato un attimo ciao a tutti e benvenuti al sali senza tempo diego cipollino marco massimo boldi e borussia lorto un lazio 1 a 1 che partita bella partita che squadra per borussia più che per la partita sono contento per la voglia che ci ha messo la lazio è stata proprio giocata vorremmo vincere la se vedeva proprio mamma mia secondo tempo bellissima come si sotto ma intanto un primo tempo diciamo che si sono studiati parecchio cominciato per borussia diciamo più sinceramente più in palla e borussia lorto senza all and è infortunato e vanno per pane con panchina con brant witzel sancho e sto baby fenomeno mucocco mi pare si chiama che ha fatto 16 anni due settimane fa alla fine non è riuscito a esordire per fare il record e batte tutti potrà fare l'esordi a sto punto e non si sa mai allora insomma si è infortunato poco prima della partita quindi bene così ha giocato royce però che è l'ultimo arrivato e appunto borussia che parte parte bene costruisce favore a noi conteniamo in realtà stiamo a giocare tutti lo stesso modo possesso palla per fasci attaccanti e cerca qualche spiraglio a centrocampo tutte le parti in realtà a noi le fasce zero loro che hanno giocato un po' di più e riga no no dopo dopo allora loro sapete sapete chi stiamo a farla dopo ci rivedremo subito e praticamente poi loro alla fine vanno vicino al gol un paio di volte che la palla che esce di pochissimo la ci ha detto fortuna ci ha detto fortuna infatti però pure noi ci siamo avvicinati un sacco di volte un paio di volte proprio vicino con correa un passaggio simile dei mobile è mancato sempre il tiro in porta è mancato il tiro in porta però beh diciamo non c'era tantissime colpe correa una volta è stato non dico falciato insomma contrastato forte in area non c'è poi uno gli ha levato davanti alla porta primetti rasta da pisci quello quello e l'altro ah no esatto beh insomma è l'altro appunto il difensore che ha tagliato bene ha fatto un bel una bella diagonale poi non si è capito che era Marusic o Milinkovic a un certo punto mi sa che era Milinkovic e l'unica cosa fatta bene da fare sulla sinistra serve Luisa Alberto Luisa Alberto che vede appunto l'inserimento la fascia a destra e lì invece di tirà mi mette in mezzo e trova Cerby solo che è liscia e però tra l'altro è pure un fuori gioco Cerby quindi vabbè lì veramente ho quasi stridato eh sì poi purtroppo l'ultima azione del primo tempo come 45esimo spaccato e segna sto guerrero che è fortissimo fortissimo errore non direvo insomma Reina ha sbagliato il rinvio però il rinvio però dai l'errore un po' De Patrick ma manca di che errore perché lui è nato a prendere mi pare che era Royce aspetta che stava fuori gioco esatto non errore De Patrick errore diciamo i centrocampisti se vuoi Leiva e Milinkovic Milinkovic non stava molto in palla no no mi rientra da due settimane che non giocava e lì purtroppo non chiudono loro insomma sulla respinta De Lani era che ha ripreso il rinvio poi praticamente non so chi serve Guerreiro però c'era Royce in fuorigioco che stoppa praticamente l'intervento impedisce l'intervento a Patrick poi Guerreiro che non stava fuori gioco tira e segna gol regolare però vabbè a quanto pare noi perché le regole nove non so che dicono una volta quello era fuori gioco si era fuori gioco perché Guerreiro stava fuori gioco e influiva sull'azione prima che ritoccasse il pallone quell'altro che era fuori gioco il Guerreiro avrebbe già arsato invece Mo si aspetta però intanto quello vabbè l'anno ha procurato comunque per fortuna rientrammo un campo al secondo tempo a palletta di fuoco ci hanno avuto loro altre occasioni si sono magnati si sono magnati Bagoglia un paio di interventi Bagliorena come diciamo un partito a reaction insomma una delle cose buone che ha fatto delle poche cose buone che ha fatto Milinkovic prende rigore esatto esatto poi a un certo punto poi è stranissimo l'arbitro dall'altro è un personaggio mi è piaciuta una cifra appunto non fischiava mai scusate per covid è vero e non fischiava mai però c'era una bella personalità si vedeva che c'era la situazione sotto controllo e andava a parlare di cose e ha detto shut up a uno e ha detto state il sito rispetto alla panchina del Dortmund e poi insomma Milinkovic leva la tocca la palla velocemente il Schultz che è il terzino che è l'altro ha sostituito come che era in campo era guerrero fa sto falletto così poi l'arbitro fa così palla 3 secondi dopo rigore non si sa ad anni ha fatto gli avrà detto una parolina una parolina i guardialini se l'hanno insultato non lo so comunque caccio di rigore che Ciro ovviamente che aveva cominciato a giocare poco prima bene che prima era bello intrappolato perché la difesa comunque bella rocciosa non riusciva a fare uno spazio in realtà lui più che faceva quasi da bova passava a Corea esatto quindi realizzato la solita foca meno forte però è precisissimo all'angolino spiazzato e da là Moby ha fatto poi là se sveglia è diventato qualsiasi palla prendeva tirava e poi un altro po' segnava è fantastico Moby poi la squadra vabbè te cambi subito te cambi subito lui si è impaurito dice no non potevamo cambiare così tutti dopo il rigore no ma è giusto ma perché altro c'hai paura mi si scombinava eh sì capito loro già stavano in partita sapevano come quello che devono però per fortuna è uscito il nostro cerrimore amico esatto quel fottuto fares è uscito sostituito da Lazzari che è stato adesso capisco perché l'ha messo in panchina perché poi ha sfruttato diciamo la stanchezza e per fortuna c'è la sciuzza che è più lento del Guerreiro lì ha fatto le buche sulla destra Mario Ciena da sinistra Mario Ciena di un partitone sia a destra che a sinistra bravissimo e poi è entrato Acqua al posto di Eiva e Pereira al posto di Correa Correa esatto Correa pure ha trovato il primo tempo un partitone il secondo tempo non si è visto è sostituito da Pereira che ha fatto un partitone esatto Pereira un partitone le ultime 20 minuti e Buche prendeva palle smarcava i dribbling la punizione il 94esimo stava a segnare su punizione cioè meno Burchi che poi aspetta no cosa? ah no no niente sì sì perché poi è entrato Luis Alberto è stato cambiato da Caicedo da Scalante ha rosicato l'altro Luis Alberto ma io spero e credo che è una reazione così diciamo perché vuole giocare penso che possa essere si può lamentare ogni volta che viene cambiato era stanco ha giocato bene pure lui è stata una bella ripartenza che ha approfiziato lui e in altra la seconda cosa ha fatto buone Fares cioè buone ha azzeccato due passaggi quindi hanno azzeccato due passaggi di Fares sì però ha azzeccato due ha fatto 50 passaggi e 50 passaggi addosso no no agli altri no scandaloso la rega non ha azzeccato un passaggio non ha azzeccato un passaggio serie A Champions League giochi nella Lazio e te ne azzecchi in passaggio posso capir cross posso capir ma proprio è fantasia se sogno posso capir ha fatto un cross quasi giusto perché gli ha deviato il difensore ma te manco i passaggi la tutela la tutela dai porco due è inguardabile non credo che nessuno lo difendi nessuno ormai basta ha perso la fiducia in tutti non so come cazzo fa giocare ancora perché c'è quello se no come fai ma alla fine guarda finché va così va bene non so che ditte potresti fare molte occasioni da qua la fascia sinistra devi essere per poraccio da cerchio è capito una certa pure Hut è andata a cross ha fatto uno scatto incredibile poi il cross ha sballato vabbè comunque è una grande partita di tutti Reina come al solito sempre nella sicurezza Patrick anche se ha sbagliato un paio di rinvii a un certo punto saremmo un po' fissati che loro le prestavano alti però vabbè comunque sempre ha fatto le parate ha fatto Patrick spilletta d'onore mamma mia Patrick quando gioca così non ne fa una le partite così ne imbrocca parecchie il problema è quando non le imbrocca che ti rovina tutto quello il problema è che le imbrocca e poi spegne il cervello fa la cazzata gol oggi proprio grandi letture intelligenti in anticipo proprio delle letture del gioco sarà stare di Champions sarà che sono fomentati Hut ha ancora la tua partita è veramente perfetta pure lui il gol vabbè non c'è io ero uno di quelli che non è Hut non voleva proprio in realtà no però io io mi ricordavo come ha finito l'anno in cui è andato via ovviamente si aspettavamo da meglio ma se è così benissimo azzeccatissimo ma Gerbi a Vecchio mi senti il secondo tempo è calato perché se deve fare il ruolo di fare essere deve fare due ruoli non fate caso che non gliela passano gliela passano proprio quando sono costretti e poi lui spaglia mamma mia mi dispiace però ne la fa proprio Marosic partitone Luiz Alberto lei fa pure grande partita di interdizionare è difficile il ruolo suo perché tu rischi soprattutto con il centrocampo così tecnico rischi di rimanere sempre in mezzo perché il mezzo l'ha da solo rischi di rimanere sempre in mezzo ai tre loro invece ha distrutto il gioco loro bello poi il sito d'acqua pro grandissimo che non ha preso tantissime palle non ha giocato tantissime palle in mezzo al campo che copriva tutti gli spazi si 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 copriva ha fatto pure due tre recuperi buonissimi Escalante è rientrato ma pure lui ha giocato bene ma io quando ho visto giocare pure le partite scorse mi sembrava uno ordinato insomma uno che sapeva cosa faceva e oggi pure ha fatto un paio di recuperi buoni ha fatto ripartire la squadra in un paio di situazioni interessante Lazzari bella ha bruciato Caseto Caseto quello che ha fatto ha fatto bene ha detto a Dani pure la prima falla che ha toccato ha fatto la finta di corpo ha preso il pallone si è preso un fallo importantissimo e poi una certa tutti i scambietti abbiamo venuto un crescendo incredibile duravate 5 minuti secondo me ma poi pare che c'era pure un altro rigore alla fine su Sky non ci hanno fatto vedere più che altro siamo lì qua a registrare ma poi l'arbitro ha fischiato veramente al quarto minuto del recupero quando doveva far giocare un altro minuto era Umers sì Umers che si è fatto male nello scontro immobile ha preso un pesto l'azione però finta finta controfinta arriva su fondo campo e qua rimessa a mezzo però la bella gli ha fatto male non ci sono arrivati comunque contentissimo secondo me si poteva vincere questa partita per come l'abbiamo messa l'abbiamo interpretata il secondo tempo io faccio un grande applauso a Inzaghi perché secondo me l'alletta benissimo e già dal primo tempo si vedeva che l'aveva un po' stata così tutti i scambi quasi Melina a facci a raccanti del Borussia e poi tra Erich un broccato con Luisa Alberto un Levo a Milinkovic che vabbè che non ha fatto una grandissima partita menzione di disonore tra virgoletto ovviamente Milinkovic oggi non c'era un partita ma ci sta perché è stato praticamente due settimane fuori l'abbiamo detto comunque ah sì vabbè vabbè non voglio il succo no tornerà sicuramente bene in forma la prossima ho detto un giocatore così ti azzecca una sbaglio magari la partita ti azzecca una cosa quella che rigore ha procurato lui e chi si sono scordati mi hanno detto tutti peccato che quegli stronsi di Zenit non sono riusciti di mancarci con questo ha fatto un punto 3 a 0 ha perso quindi il Bruges sta a due punti sotto di noi a 4 7 sì non stavamo a 9 il Borussia a 10 se vinciamo questa eravamo quali finiti raga peccato devo fare un punto almeno col Bruges almeno un punto fattibilissimo se vinciamo stiamo in casa non male magari il Bruges la perde però non ci frega niente in realtà se il Bruges la perde non ci frega niente il Bruges che non deve vincere noi la prossima partita Domov vince pareggia Domov vince io dico Domov vince non vince non voglio vincere non voglio nel senso raga comunque sempre ha la stessa cosa che ha strizzo al culo fino all'ultima partita sì però dai c'hai due risultati su tre e la squadra è nettamente super non voglio di niente speriamo speriamo bene comunque vada Rea tra un successo perché abbiamo fatto dei signori gironi sì e due partite che ne abbiamo vinto oltre questa con la più forte una delle squadre più forti d'Europa non c'è uno squadrone cioè questi hanno fatto entrare al secondo tempo Brandt Witzel e Sancho non c'erano non c'erano Haaland e comunque hai visto Bellingham 16 anni 17 anni un colosso in mezzo a campo con la Y vabbè bella mo testa alla prossima campionato contro la spalla ah no la spalla serie B vabbè è l'uforia con la spazia sabato alle 3 oggi abbiamo fatto questa live prepartita e c'erano una ventina di voi e sono passati praticamente un centinaio ma quanto siete bravi bravi grazie funziona quindi noi ce li proviamo anche quindi sabato verso le 2 dopo mangiato mangiamo e poi andiamo a fare a live prima della partita e grazie mille iscrivetevi mettete like commentate e ci credete a passare sto turno sì non lo so commentate quello che volete vado paripapa paripari verabaripapipampipampu verabipapa grazie a tutti